La partecipazione di tutti i senatori è dedicata allo svolgimento di un breve ciclo informale di audizioni avente ad oggetto di legge del Governo numero 935, recante modifiche costituzionali per l'intuazione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, già adottato come testo base. L'audizione ha la finalità di acquisire ulteriori elementi istruttori che la Commissione ha ritenuto utili, anche se siamo alla fine dei nostri lavori, per l'Aula. Quindi sono riflessioni che chiediamo ai giuristi che hanno accettato di darci un loro contributo e per questo li ringraziamo. Le ulteriori riflessioni, i contributi che la Commissione chiede, riguardano le modifiche approvate dalla Commissione nel corso dei nostri lavori in sede referente. E infatti credo che gli uffici abbiano trasmesso appunto il testo. C'è anche un fascicolo qua a disposizione. Ricordo che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, nonché sul canale satellitare e sulla web tv. Quindi, anche se oggi la partecipazione in presenza non è altissima, però ci stanno seguendo anche sia sul canale satellitare che sulla web tv. Ringrazio quindi il professor Chieli e il professor Francesco Saverio Marini per aver accolto il nostro invito. E ricordo loro che è previsto un lasso temporale di circa mezz'ora per ciascuno che suddividiamo, come sempre, in dieci minuti per l'esposizione delle vostre considerazioni e in successive 20 minuti per le domande dei colleghi e le successive risposte che quindi spero e chiedo che siano ovviamente sintetiche sia soprattutto le domande sia necessariamente anche le risposte. Quindi ciò premesso, abbiamo stabilito un ordine e quindi cominciamo col professor Enzo Chieli, giusto? Sì. Prego, professore. Grazie, Presidente, e grazie alla Commissione per quest'invito. Può venire qui, professore? Forse è meglio. Sì. Scusi, scusi se l'ha incomodo, ma... No, no, va bene. Per la regia forse è meglio, ecco. E dopo ovviamente si cambierà di posto con il professor Marini. Ecco, deve spingere il pulsante e prende la parola. Provi? Presidente. Provi ancora? Forse non aveva spinto l'altro. Oppure è l'altro, Presidente. Ecco, provi. Ecco, ora va bene. Prego, la parola. Di nuovo, grazie. Dalla lettura dei verbali di questa Commissione che mi sono stati inviati si trae l'impressione che intorno a questa riforma che è diretta a introdurre una forma di governo con una forma nuova di premierato, si sia svolto sinora un dibattito molto approfondito e molto intenso. Nel corso di questo dibattito e delle audizioni che l'hanno accompagnato sono, peraltro, emersi una serie di rilievi critici, alcuni di ordine generale, riferiti al progetto nel suo complesso, altri di natura specifica, riferiti a singole previsioni e norme specifiche. I rilievi di natura specifica, fin dall'inizio, hanno investito tre aspetti, come è noto. La mancata previsione di un limite ai mandati conferibili al Presidente del Consiglio mediante elezione diretta. Il richiamo espresso in Costituzione alla legge elettorale per le Camere, come legge maturitaria, in grado di assegnare un premio di maggioranza specificamente indicato, parlo del progetto iniziale, e, in terzo luogo, la previsione di una cosiddetta clausola antiribaltone di ambigua formulazione e di dubbia interpretazione, riferita all'ipotesi di cessazione della carica del Presidente del Consiglio. Ora, per superare queste critiche puntuali e al tempo stesso per migliorare l'impianto complessivo della legge, questa Commissione ha approvato vari emendamenti a questo testo iniziale, emendamenti che si prestano a valutazioni diverse. L'emendamento apportato all'articolo 3, che ha introdotto un limite temporale ai mandati conferibili al Presidente eletto, supera sicuramente il rilievo critico. Gli emendamenti apportati all'articolo 3 e all'articolo 4, per aggiustare il richiamo alla legge elettorale e per chiarire il contenuto della norma antiribaltone in caso di sfiducia parlamentare o di dimissioni del Presidente del Consiglio, hanno apportato alcune migliorie, sia di ordine tecnico che lessicale, ma hanno lasciato aperti i problemi di fondo che queste critiche all'inizio avevano sollevato. In particolare, dal punto rimasto del tutto aperto, il problema della legge elettorale, che rappresenta il perno politico della riforma. Un problema particolarmente complesso, dove si pensi che ha le difficoltà di affrontare contestualmente e sinergicamente l'elezione di tre distinti organi costituzionali, rispetto a cui il risultato elettorale può anche risultare diverso, sopra e sotto la soglia di accesso al premio di maggioranza che la Corte Costituzionale impone. Problema complesso anche se si pensa alla diversità dei risultati che è possibile ottenere adottando collegi uninominali o collegi plurinominali, se si pensa alla collocazione in lista della candidatura dell'aspirante premie, se si pensa al ricorso o meno della tecnica dei ballottaggi. Ci sono variabili che possono cambiare profondamente il risultato della gara. Su questi aspetti essenziali la riforma resta per il momento oscura e si tratta di un'oscurità che rende molto fragili le stesse basi della riforma. Molti dubbi, abbia avviso, suscita anche la nuova formulazione della clausola antiribaltona e di cui all'articolo 4 lettera B, che con l'emendamento approvato è divenuta indubbiamente più chiara, ma anche più contestabile per l'eccessivo controllo sulle camere che viene affidato alle mani del Presidente del Consiglio. Accanto a questi emendamenti, che hanno inteso rispondere alle critiche inizialmente sollevate contro questo progetto iniziale, la Commissione ha approvato anche altri emendamenti a mio avviso migliorativi del testo iniziale. Mi riferisco in particolare ai due emendamenti diretti a consolidare la posizione del Presidente della Repubblica, sia attraverso una proroga della maggioranza qualificata prevista per la sua elezione, dal terzo scrutinio al sesto scrutinio, sia attraverso l'eliminazione della controfirma ministeriale su alcuni atti propri del Capo dello Stato, come la nomina dei giudici costituzionali, la grazia, l'invio dei messaggi alle Camere e l'invio delle leggi alle Camere. Forse a tale elenco si potrebbe anche aggiungere la convocazione straordinaria delle Camere prevista dall'articolo 62 della Costituzione, che è un atto proprio del Capo dello Stato. Come ho già avuto in passato modo di sostenere in un lontano scritto che risale al 1983, cioè a uno dei volumi del commentario di Zianichelli sulla Costituzione italiana, penso che l'eliminazione della controfirma per gli atti propri del Capo dello Stato sia la soluzione più corretta, anche alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 89, perciò condivido l'interpretazione che la Commissione ha dato con questa norma, anche alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 89, che collega la controfirma alla presenza di una proposta ministeriale e non alla presenza di una semplice competenza ministeriale. Inoltre penso che sia da valutare positivamente anche l'emendamento che per quanto riguarda le competenze del Consiglio dei Ministri aggiunge al potere di proposta di nomina dei ministri anche il potere di revoca. Rafforzare su questo terreno l'autonomia del Presidente del Consiglio ai fini della funzionalità del Governo mi pare una scelta positiva. In sintesi quindi mi sembra che l'opera emendativa, che con tanta intensità insomma è stata svolta da questa Commissione, sia da valutare positivamente in quanto migliorativa, quantomeno sul piano tecnico e sul piano lessicale del testo iniziale. Detto questo però ritengo anche subito di dover aggiungere che questi emendamenti, per quanto apprezzabili, non sono tali da superare i giudizi negativi che in sede scientifica sono stati ripetutamente espressi nei confronti di questa riforma, non nei punti particolari, ma considerata nel suo complesso. Giudizi negativi che nascono tutti da una premessa, che questa riforma, contrariamente a quanto si è affermato, non è né chirurgica né limitata. Dal momento che investe il nucleo centrale, cioè il cuore della nostra forma di governo, e di riflesso finisce per colpire l'intero nostro impianto, cioè il quadro dei poteri e il quadro della libertà tracciato da questo impianto, cui viene impressa alla base una curvatura molto diversa da quella originaria e da quella attuale. Introdurre l'elezione popolare diretta dell'organo posto al vertice del potere esecutivo significa, infatti, cancellare l'ispirazione storica originaria della nostra Costituzione, operando il ribaldamento di uno dei principi che ne reggono le fondamenta. Con la Carta del 1948, i nostri Costituenti intesero, infatti, dopo l'esperienza autoritaria, costruire una democrazia a impianto pluralista e garantista, rappresentata in prima istanza ai fini dell'esercizio della sovranità popolare articolo 1 dal Parlamento e guidata da un governo parlamentare. Si ritenne, infatti, dopo un'analisi che la Costituente fece in maniera estremamente approfondiva del nostro sistema politico e delle condizioni politiche di allora, che questa forma di governo parlamentare fosse la più adatta a favorire la convivenza pacifica il colloquio, lo scambio tra le diverse forze in campo che si contrapponevano e che erano espressione, come sono ancora oggi espressione, di un sistema politico caratterizzato da un livello molto alto di frammentazione e di conflittualità. Per la presenza, diceva allora Mortati, di molti partiti molto divisi. Questa presenza, anche se ha cambiato caratteristiche politiche, è tutt'ora in corso. Forma di governo parlamentare, la nostra, affondata sull'equilibrio tra una funzione di indirizzo politico che viene affidata alla maggioranza e esercitata attraverso il raccordo tra colpo elettorale, Parlamento e governo, e una funzione di controllo costituzionale affidata a organi imparziali espressivi dell'unità nazionale, quale il Capo dello Stato e la Corte Costituzionale. Quest'equilibrio con questa riforma viene toccato, anzi a mio avviso spezzato, attraverso la riduzione dei poteri di rappresentanza e di controllo sia del Parlamento che del Capo dello Stato. Il punto fondamentale su cui pensare riguarda l'assurdità di affiancare a un Capo dello Stato rappresentante dell'unità nazionale ma eletto in secondo grado un Presidente del Consiglio rappresentante di una maggioranza cioè di una parte del Corpo elettorale eletto in primo grado direttamente dal popolo e di conseguenza di fatto investito di una legittimazione e di un peso costituzionale molto superiore a quello riconosciuto al Capo dello Stato. Con un meccanismo che è stato ripetutamente rilevato da un lato toglie al Parlamento il valore sostanziale della fiducia. La fiducia c'è ma è un atto meramente formale. Dall'alto trasforma i poteri del Capo dello Stato relativi alla formazione del governo e allo scioglimento delle Camere da poteri liberi e discrezionali in poteri piccolati. Il fatto è che con questa riforma si tenta e questo mi pare la critica di fondo che si può fare con questa riforma si tenta di definire una forma di governo che non ha precedenti e che mira a combinare elementi non combinabili del governo parlamentare con il governo presidenziale. Sottraendo però all'una e all'altra forma di governo la caratura costituzionale che li distingue dal momento che al governo parlamentare si sottrae la fiducia che è l'elemento chiave di quella forma di governo e al governo presidenziale si sottrae il limite insuperabile della divisione dei poteri che è l'altra connotazione essenziale di quella forma di governo. Il risultato viene una combinazione incombinabile cioè si combinano due elementi che non possono stare insieme. Il risultato e chiudo rispetto alle condizioni attuali del nostro sistema politico di un'operazione di questo genere è a mio avviso storicamente errato e politicamente rischioso. Storicamente errato per la radicalità della modifica che si opera in uno dei principi ispiratori della nostra struttura repubblicana che ha retto quasi 80 anni efficacemente. E questo principio base è il principio della diffusione del potere e il rifiuto della concentrazione al vertice dell'esecutivo della massima concentrazione del potere. Ma risultato anche a mio avviso politicamente rischioso per il contrasto che una riforma di questo tipo se attuata verrà inevitabilmente a determinare tra governabilità e sostenibilità democratica del sistema contrasto che nasce tutte le volte che si aumenta al vertice la concentrazione del potere formale senza consolidare alla base la coesione di una maggioranza di sostegno di questi poteri. Cioè se si nel gioco tra governabilità e sostenibilità se si aumenta bisogna sempre cercare il punto di equilibrio se si aumenta una governabilità al vertice che non è sostenuta alla base da un'adeguata maggioranza ora se si pensa proprio al risultato delle ultime elezioni la coalizione che oggi governa come maggioranza ha ottenuto un risultato se non sbaglio del 42% considerando le astensioni che poi sono il problema chiave di questo passaggio storico della nostra Repubblica si scende al 28% e questo è lo scarto tra governabilità e sostenibilità della democrazia che significa che riforme costituzionali sì sono necessarie ma sono necessarie se vengono combinate con riforme della politica diretta a superare quello che è il difetto di base di questo impianto in questa fase storica cioè il distacco crescente del corpo sociale dalle istituzioni governanti quello è il punto chiave e è un punto che mette in gioco la legge elettorale la disciplina dei partiti la comunicazione politica e tante altre cose che sono riforme della politica per questo mi sembra che questo progetto così come oggi non si presenti molto alla possibilità di trovare delle linee di compromesso compromesso che però con buona volontà mi avviso sarebbe possibile raggiungere o che si ponesse mente a quegli strumenti costituzionali che già sono stati sperimentati efficacemente in altri sistemi e che sono in grado di perseguire con menore rischi con maggior sicurezza esattamente gli stessi obiettivi che giustamente si vogliono raggiungere con questa riforma cioè aumentare la stabilità del governo aumentare l'efficacia del potere e direzione del presidente del consiglio non mi soffermo su questi motivi che sono stati a lungo su questi elementi che sono la sfiducia costruttiva la fiducia separata al presidente del consiglio e altri strumenti di cui siamo sempre molto parlati grazie grazie a lei grazie a lei professore allora adesso chiederei ai colleghi se hanno delle domande da rivolgere senatore Cataldi prego allora facciamo le domande e poi le risposte professore grazie allora Cataldi poi Giorgi ho visto poi vediamo la preghiera è di essere ovviamente sintetici grazie professore lei è stato molto chiaro e ha tra i diversi punti anche evidenziato il fatto che si sono un po' in qualche maniera compromessi degli equilibri un sistema democratico è fatto di equilibri e credo che questo diciamo spostamento di funzioni e poteri potrebbe questo lo chiedo a lei entrare in conflitto con i principi dello Stato di diritto lo Stato di diritto prevede che ci sia un sistema equilibrato e il fatto stesso che qui c'è un premier che addirittura può decidersi di dimettersi per qualsiasi ragione perché il vocabolo che è stato utilizzato è dimissioni quindi comprensivo di dimissioni volontarie riconosce quindi a questo premio il diritto di sciogliere le camere sottraendo al Presidente della Repubblica la possibilità anche di dire di no un potere a cui non corrisponde un bilanciamento dall'altro lato nel senso che il potere di sfiducia delle camere è condizionato non c'è una vera e propria libertà del Parlamento di votare la sfiducia se ce ne sono delle condizioni ma c'è una sorta di ricatto istituzionale per cui se il voto è per la sfiducia si sciolgono le camere quindi diciamo sembrerebbe che sono meccanismi che per preservare la stabilità vanno però poi a compromettere lo Stato di diritto e se così fosse le chiedo questo come può essere compatibile con la nostra presenza in Europa l'Europa nell'articolo 2 sul trattato del trattato dell'Unione Europea inserisce come valore fondante lo Stato di diritto si parla dello Stato di diritto in uno dei primi articoli del trattato quindi è uno dei principi cardine dell'Unione l'Europa sta portando avanti una serie di incontri interparlamentari proprio preoccupandosi del tema dello Stato di diritto e oltretutto un problema che si aggrava ulteriormente in Italia perché in Italia abbiamo una situazione dove per ragioni forse procedurali perché abbiamo un iter parlamentare troppo complesso per poter legiferare di fatto il potere legislativo è stato usurpato dall'esecutivo quindi diciamo che oggi creare una figura così forte andrebbe a conservare su questa stessa figura una situazione attuale che sembrerebbe insomma compromettere ulteriormente la divisione dei poteri perché il potere legislativo di fatto non riesce ad essere esercitato dal Parlamento e viene spostato su un esecutivo che viene ulteriormente rafforzato quindi le dico questa è secondo me una violazione dell'articolo 2 e espone anche l'Italia a rischi di infrazione questa è la prima domanda seconda domanda concettualmente il fatto di inserire un premio di maggioranza in Costituzione piuttosto che nella legge elettorale non le sembra forse che sia stata scelta la fonte del diritto sbagliata io posso capire che si possa inserire in una legge elettorale che tiene conto di una contingenza un premio di maggioranza o qualche perplessità sulla compatibilità con un principio costituzionale perché di per sé il premio di maggioranza è una distorsione del principio di rappresentatività e quindi se si tratta di una distorsione non può diventare un principio cardine può diventare un adattamento alla realtà compatibile semmai con una legge elettorale grazie pregherei un po' più di sintesi senatore Giorgis prego grazie presidente e grazie soprattutto al professor Kelly al quale vorrei rivolgere una una domanda diciamo molto molto puntuale io condivido la la sua preoccupazione e la sua valutazione in ordine agli effetti della riforma questa è una riforma che ridefinisce il modello di democrazia delineato dalla nostra costituzione è una riforma tutt'altro che chirurgica è una riforma che incide profondamente sulla distribuzione del potere e sul modello di partecipazione e di legittimazione del potere medesimo la posta in paglio mi sembra che anche anche lei professore condivida è alla fine il pluralismo ovvero la capacità delle istituzioni politiche di essere luogo di integrazione politica che non rimuove il pluralismo non lo nega ma lo cerca di ricondurre a unità ora lei si è soffermato su un aspetto che a me sembra molto molto importante è quello cioè del contrasto a suo avviso insanabile in questo disegno di legge tra governabilità e sostenibilità democratica sono le sue parole ecco la domanda è questa questo contrasto che anche a me pare insanabile lei ritiene che sia un contrasto che nel compromettere nel sacrificare in maniera del tutto irragionevole la base democratica la legittimazione democratica finisce inevitabilmente anche per compromettere la capacità di governo insomma istituzioni politiche che non godono di una adeguata base di legittimazione democratica che non godono cioè di un consenso non per acclamazione ma un consenso per mediazione per successive sintesi come fanno alla fine a disporre di un potere sufficiente a orientare i processi economici e sociali cioè lei non pensa che qui venga messa in discussione la natura stessa della funzione di governo intesa non come una funzione diciamo formale attribuita a uno specifico organo ma come funzione che le istituzioni politiche aspirano a svolgere sulla società e sui processi economici che in essa si sviluppano grazie 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 senatore giordi anche per la sintesi altri colleghi prego prego senatore marton sì grazie professor cheli lei a passare nell'ultima frase del suo intervento ha citato la sfiducia costruttiva può approfondire il tema in questo ambito farci capire farmi capire sostanzialmente come possa essere se possa essere adattato il sistema tedesco spagnolo a questo a questo tipo di disegno di legge grazie ah un'altra cosa mi perdoni rapidamente io ritengo che non esista una legge elettorale che garantisca in sé per sé la governabilità soprattutto in Italia data la la quantità di partiti politici e diciamo la formazione di nuove formazioni politiche in corsa e di legislatura e di diciamo proseguimento storico sostanzialmente faccio l'esempio del mio gruppo politico che è nato solo nel 2013 movimento 5 stelle e quindi mi domando lei intravede un pericolo nell'inserire una legge elettorale di qualsiasi tipo di qualsiasi forma all'interno della Costituzione grazie bene grazie senatore Marton senatrice Musolino prego grazie presidente in verità il collega Marton non mi ha in parte preceduto non ci mancherebbe perché evidentemente abbiamo fatto la stessa riflessione volevo chiederle professore il fatto che nel disegno di legge quindi in questa riforma venga inserito un riferimento preciso e specifico vincolante alla legge elettorale non lo trova un riferimento che non soltanto è pericoloso ai fini diciamo della governabilità ma che anche vincola irrigidisce questa poi questa diciamo questa riforma questa nuova forma di governo perché se poi questa legge e noi abbiamo una grande esperienza francamente di leggi elettorali che sono state modificate nel corso degli anni anche in maniera abbastanza sospinta quindi se poi questa premio di maggioranza con tutte le incognite che lei stesso ha accennato cioè la elezione in contemporanea delle due camere e più della figura del presidente del consiglio dei ministri che deve essere eletto da solo la differenza fra collegi rinominali e plurinominali distribuzione di premi di maggioranza calcolo di questi premi di maggioranza con anche le quote che poi vengono ricalcolate sui residui ecco indicarla in questo modo formale e anche specifico all'interno della riforma costituzionale non lo considera un errore cioè non lo considera poi un vincolo troppo rigido ai fini diciamo anche della governabilità perché se questo è un modello di governabilità mettere un riferimento così preciso secondo me poi vincolo anche per il prosieguo perché modificarla significherebbe dover andare incontro a una riforma costituzionale nuovamente perché inserita qui dentro questa era la mia domanda grazie ora se non ci sono altri vorrei rispondere al professor Cheli ovviamente la preghiera di osservare un po' di sintesi grazie sì perché i problemi sono insomma per svolgere già a fondo occorrerebbe molto tempo no cerco di rispondere velocemente seguendo l'ordine delle domande violazione dell'articolo 2 del trattato mi sembra non ce la vedo sinceramente ci vedo qualcos'altro che non attiene tanto alla disciplina europea ma attiene piuttosto alla disciplina nazionale cioè la forma repubblicana l'elemento della forma repubblicana è un elemento essenziale della forma repubblicana che scaturisce dal modo come è costruita la costituzione nella seconda parte il Parlamento apre la costituzione poi viene il capo dello Stato poi viene il governo la caratteristica della forma repubblicana è che il potere esecutivo dipende dal potere legislativo e questo è il punto chiave non si può rovesciare questo rapporto senza incidere sulla forma repubblicana a mio avviso perciò non è tanto un problema di trattato europeo quanto un problema di articolo 139 di forma repubblicana questo è un punto chiave dal momento che si costruisce una forma di governo dove il Parlamento nasce al rimorchio dell'elezione del capo dello Stato si crea un rapporto di dipendenza di fatto del legislativo dall'esecutivo dipendenza che aumenta poi con tutti i poteri di scioglimento che vengono dati in mano ecco questo mi sembra il punto veramente più critico ma un punto che più che il quadro europeo a mio avviso riguarda il quadro il quadro nazionale legge elettorale la Costituzione è libera di fare quello che crede e perciò può anche disciplinare le elezioni in Costituzione bisogna vedere se questo è opportuno della cosa si discusse molto alla Costituente e si arrivò alla soluzione che non era opportuno e se guardiamo comparativamente le Costituzioni del mondo non troviamo Costituzioni che richiamano le leggi elettorali o se la richiamano richiamano solo con un richiamo formale senza nessuna indicazione sui contenuti perché perché la forza di una Costituzione che è data nella sua durata è data anche dalla sua flessibilità e la chiave di flessibilità di una Costituzione a mano a mano che il sistema politico evolve è data dalla legge elettorale perciò si può richiamare in Costituzione la legge elettorale ma non a dare indicazioni che irrigidiscono questo strumento che è la chiave di forza di forza temporale della Costituzione la Costituzione regge se la nostra è una Costituzione rigida ma che ha un elevato grado di elasticità e questo grado di elasticità è garantito dalla rigidazione elettorale perciò direi si può fare formalmente non ci sono limiti per un Costituente ma dal punto di vista sostanziale è molto negativa la linea sfiducia costruttiva sfiducia costruttiva sì gli elementi che portano a garantire nell'esperienza che c'è stata in Europa prevalentemente in Germania e in Spagna ma anche in altri ordinamenti è che la stabilità del governo può essere garantita dalla sfiducia costruttiva evidentemente la sfiducia costruttiva diciamo disincentiva la possibilità del voto di sfiducia è una forma molto forte ma nell'ordinamento tedesco credo che sia stata usata solo due volte o tre volte e non ha mai dato luogo a grossi problemi dal punto di vista della stabilità cioè ha garantito la stabilità così come la garantisce in Spagna perciò lo strumento in sé ci sono poi molte discussioni come si può congegnare col potere di scioglimento questo è un problema che è avvenuto anche in Germania ma certamente è uno strumento che introdotto aumenta il grado di stabilità del governo e perciò può raggiungere quello stesso risultato a cui si mira con questo progetto senza correre il rischio e qui vengo alla domanda che mi veniva fatta su governabilità e stabilità cioè io credo che questo veramente sia un rischio in un sistema politico come quell'italiano molto elevato perché la frammentazione la divisione ha raggiunto un livello di grande pericolosità e giocare sul fatto di contenere questa contrapposizione tra corpo sociale e istituzioni governanti con gli strumenti formali di un governo è estremamente rischioso perché ci saranno migliaia di frammenti sociali che si opporranno a questo e perciò questa è una strada che inevitabilmente è destinata a aumentare la conflittualità di un sistema la cui conflittualità è stata domata da questa Costituzione al momento in cui è nata la Costituzione la conflittualità era al massimo era elevatissima addirittura si temeva di scindere lo Stato italiano in più stati è stata risolta con una Costituzione nata per unire questa strada trasforma una Costituzione nata per unire in uno strumento di divisione questo è il punto a mio avviso rischio scusate bene grazie professore siamo stati sostanzialmente nella mezz'ora un paio di minuti in più quindi complimenti anche per la sintesi adesso il professor Marini se vuole professore si lascio il posto si può accomodare anche qui ma posso trattenermi ma è per noi è un piacere si può anche accomodare dove vuole allora professor Marini anche lei ormai conosce le nostre regole quindi le cedo la parola per la sua relazione introduttiva pregandola di stare insomma nei dieci minuti elastici il professor Kelly ne ha utilizzati 13 ma insomma direi che è andato benissimo per poi dare la possibilità ai colleghi di fare le domande e di poter rispondere insomma prego professore grazie grazie presidente per la parola e ovviamente ringrazio la commissione per il nuovo invito all'audizione secondo le indicazioni ricevuto mi limiterò a commentare solo le modifiche apportate dalla commissione rinviando per gli aspetti invece di carattere più generale sulla riforma e sul modello del premierato alle considerazioni che avevo già svolte sul progetto all'avvio del leader parlamentare in via preliminare si può rilevare che si tratta di modifiche che non stravolgono le linee fondamentali dell'iniziale proposta di riforma elaborata dal governo rimangono ferme le scelte di fondo in particolare l'elezione diretta del presidente del consiglio della tendenza maggioritaria del sistema attraverso la previsione del premio di maggioranza collegato all'elezione del presidente del consiglio utilizzando i più diffusi schemi di classificazione delle forme di governo anche dopo i lavori della commissione il modello può inquadrarsi tra i sistemi di governo con una doppia catena di legittimazione democratica del presidente e delle camere a tendenza maggioritaria a carattere competitivo e senza mediazione parlamentare nella formazione delle coalizioni di governo e condivido quello che diceva il professor Kelly cioè che si tratta di una forma di governo molto diversa da quella prevista nella Costituzione vigente ma ciò risponde a dinamiche di funzionamento secondo la classificazione che ho appena ricordato molto diffuse anche in ambito europeo sempre in via generale e preliminare condivido anche l'altra osservazione del professor Kelly cioè che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno prodotto un netto miglioramento del testo agendo sotto un triplice versante con tre obiettivi anzitutto le modifiche assicurano maggiore coerenza alla proposta attraverso l'introduzione del simul simul nell'ipositi di sfiducia e facendo tesoro del rilievo che evidenziava come quella nella proposta originaria il premier subentrante godesse di un potere più ampio rispetto a quello eletto in secondo luogo gli emendamenti sono stati diretti a equilibrare il rapporto tra il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica in questa prospettiva possono inquadrarsi tanto il rafforzamento della fonte di legittimazione del capo dello Stato attraverso la modifica del suo procedimento di elezione quanto l'introduzione degli atti sottati a contafirma quanto ancora l'attribuzione di nuovi poteri del presidente della Repubblica e specificamente il potere di revoca dei ministri sebbene ovviamente esercitabile sul proposto del presidente del Consiglio nonché infine la previsione di un limite alla rielezione del premier da ultimo le modifiche tendono a rendere il modello costituzionale più flessibile attraverso l'eliminazione del 55% come premio di maggioranza e sopprimendo la clausola antiribaltone legata al programma che presentava aspetti di complessità e di difficile verificabilità svolte queste premesse di carattere generale scendono nel dettaglio delle singole previsioni senza soffermarmi ovviamente su quelle di mero drafting o di coordinamento normativo quanto all'articolo 2 l'ampliamento del numero di votazioni a maggioranza qualificata preelezione del capo dello Stato è senz'altro apprezzabile perché corrisponde all'idea di fondo del progetto al rafforzamento della legittimazione democratica del presidente del Consiglio opportuno che corrisponde un rafforzamento della legittimazione dei poteri del presidente della Repubblica secondo una ripartizione di ruoli e di funzioni più netta di quanto accaduto sino ad oggi ripartizione in base alla quale al primo spetta la determinazione unitamente al resto del governo e alla maggioranza parlamentare dell'indirizzo politico al secondo è riservata una funzione di garanzia che ben si inquadra nel modello parlamentare classico che vede nel capo dello Stato parlamentare un organo regnante ma non governante ovvero un organo imparziale e super partes rispetto al continuum governo-parlamento impostazione che troviamo nelle pagine del più atrevole studioso dell'argomento Carlo Esposito per il quale il capo dello Stato parlamentare sarebbe confidato di porsi come forza neutra tra la maggioranza e la minoranza del Parlamento evitando come tutore della Costituzione che il potere della prima si trasformi in prepotenza in questa prospettiva ampliare il numero di votazioni a maggioranza qualificata non soltanto favorisce la scelta su un profilo non di parte o espressione della sola maggioranza di governo ma soprattutto configura le elezioni a maggioranza assoluta come un estrema razio responsabilizzando i gruppi parlamentari ad individuare profili largamente condivisi e appunto super partes nella stessa logica come accennavo si può leggere anche l'introduzione dell'articolo 2 bis che nel formulare dell'articolo 89 della Costituzione introduce la categoria degli atti esenti da controfirma la modifica riprende soluzioni analoghe sperimentate in altri ordinamenti e in altre forme di governo mi riferisco in particolare alla Costituzione francese e costituzionalizza la teorica degli atti di iniziativa presidenziale elaborata da una larga parte della dottrina costituzionalistica la razza della modifica è quella di evitare condizionamenti nell'esercizio della funzione di garanzia del Capo dello Stato per alcuni atti che attengono che sono tipicamente presidenziali o che non presuppongono un'attività o comunque un istruttore del governo che giustifichi la necessità della proposta ministeriale e della conseguente responsabilità governativa sulla base di questa premessa appare coerente l'elenco contenuto nell'articolo la nomina del Presidente del Consiglio è infatti riconducibile o all'esito elettorale o alle consultazioni parlamentari ma certo esclude per l'oggi con la proposta del governo la nomina dei giudici costituzionali è perplassi oltre cinquantennare un atto esclusivamente presidenziale ed è opportuno che sia così altrimenti si finirebbe per attribuire la maggioranza dei giudici costituzionali alla maggioranza parlamentare la concessione della grazia e la commutazione delle pene è storicamente un atto riservato al Capo dello Stato e rappresenta un adero all'esercizio della funzione giurisdizionale e non è un caso che la sentenza numero 200 del 2006 della Corte Costituzionale abbia riconosciuto tale potere esclusivamente al Capo dello Stato il decreto specificamente i rapporti tra il Presidente della Repubblica e il Parlamento e ciò rende superfluo se non inopportuno l'intermediazione governativa in relazione a tali atti e condivido che si potrebbe aggiungere nella stessa logica anche la convocazione straordinaria delle Camere i decreti di indizione dei referendum infine rappresentano anch'essi esercizi di una funzione di garanzia a tutela del corretto funzionamento di un istituto di democrazia diretta che potrebbe riguardare anche atti della maggioranza parlamentare e quindi non può che essere sottratto a qualsiasi influenza del Governo relativamente all'articolo 3 la scelta dell'introduzione del limite alla rileggibilità del Presidente del Consiglio va letta in combinazione con la decisione di introdurre la regola del simul simul in tutte le ipotesi di crisi di governo cosiddetta politica entrambe le modifiche appaiono coerenti con la legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio in analogia con quanto accade non solo a livello regionale degli enti locali ma anche all'estero tutte le volte in cui ci siano organi monocratici che hanno una diretta investitura democratica quanto la legge elettorale va salutata positivamente la scelta di eliminare il puntore riferimento numerico al premio di maggioranza l'espressa costituzionalizzazione dei principi di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche impedisce comunque la legge elettorale di prevedere premi eccessivi o produrre distorsioni sproporzionate della rappresentanza implicando la previsione di una soglia minima per l'ottenimento del premio almeno al primo turno l'espresso riconoscimento al capo dello stato del potere di revoca dei ministri non solo ne rafforza il ruolo e la funzione di garanzia anche a tutela della collegialità della decisione del governo ma pone fine ad un annosa carriera dottrinaria giurisprudenziale sulla revocabilità dell'incarico ministeriale quanto infine all'articolo 4 gli emendamenti approvati appaiono lineari e coerenti come dicevo prima con l'elezione diretta del presidente del consiglio del tutto condivisibile è la scelta di distinguere tra la sfiducia e le dimissioni nel primo caso infatti entrano in conflitto i due meccanismi di legittimazione democratica parlamentare e del presidente del consiglio mentre nel secondo è possibile che questo non accada mi riferisco al caso in cui il presidente del consiglio desideri che il proprio partito e la propria maggioranza in linea con quello che in fondo accade nel premierato britannico prosegua la legislatura sotto la guida di un altro leader soluzione che senza tradire il mandato elettorale evita interruzione della legislatura laddove non sia strettamente necessario assicura flessibilità al sistema e comunque rimette la decisione agli elettori tutte le volte in cui si crea invece un contrasto insanabile dentro la maggioranza parlamentare o tra quest'ultima e il presidente del consiglio tal emendamento consente anche di superare l'obiezione che rilevava una anomalia nel fatto che il secondo premier avesse più poteri del primo non godendo quest'ultimo del meccanismo del simul simul con la nuova previsione il presidente eletto godrebbe infatti di un potere maggiore in quanto nell'ipotesi di dimissione avrebbe la possibilità di scegliere se andare alle elezioni o consentire la prosecuzione della legislatura mentre il premier subentrante non avrebbe quest'opzione a forse ora ovviamente non si giustifica il simul simul nel caso in cui la crisi non sia dovuta a motivi politici o a una crisi della maggioranza ma a fatti privati legati alla figura del premier come appunto nel caso di impedimento morte o decadenza del presidente del consiglio in tali casi è più che giustificabile la scelta di rimettere al presidente della repubblica la verifica della solidità della coalizione e consentire la prosecuzione della legislatura individuando il secondo premier nell'ambito della maggioranza di governo assolutamente opportuna altresì la scelta di sopprimere l'aggettivazione volontaria riferita alle dimissioni il tema è infatti suscitato incertezze interpretative rispetto all'applicabilità della disciplina costituzionale sulle dimissioni anche alle ipotesi delle dimissioni a seguito della mancata approvazione di una questione di fiducia da parte delle camere sotto il profilo del mero drafting si potrebbe tuttavia immaginare di specificare che si tratta di altri casi di dimissioni perché a rigore anche l'eventualità disciplinata del capoverso precedente cioè l'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'obbligo di dimissione un accenno per concludere la questione se nel caso di dimissioni il Presidente della Repubblica conservi il potere di opporsi alla proposta del Presidente del Consiglio di sciogliere le camere il dubbio sorge perché anche nella Costituzione vigente il decreto di scioglimento è controfirmato esensi dell'articolo 89 dal Presidente del Consiglio che fa la proposta e l'atto almeno per la dottrina maggioritaria viene configurato come un atto complesso uguale cioè in cui le volontà dei due organi devono necessariamente concorrere per la formazione dell'atto va rilevato tuttavia che nel nuovo testo una molteplicità di argomenti inducono a ritenere che rispetto a quelle eventualità l'attività del Presidente della Repubblica sia solo quella di procedere a un'esternazione solenne e formale di un potere sostanzialmente imputabile al Presidente del Consiglio mi riferisco non solo ai principi di funzionamento della nuova forma di governo e la razza complessiva della riforma ma anche ad una serie di elementi testuali l'espressa specificazione che il Premier dimissionario propone lo scioglimento non può che avere una valenza rafforzativa del suo potere di decisione essendo altrimenti una disposizione veramente ripetitiva di quanto già previsto nel vigente articolo 89 anche la distinzione tra la disciplina delle dimissioni e quella relativa ai casi di morte impedimento e decadenza perderebbe di significato infine la previsione contenuta nel successivo capoverso che attribuisce al Capo dello Stato il potere di nominare un nuovo Premier se e solo se il Presidente dimissionario non abbia esercitato la facoltà di proporre lo scioglimento appare inequivoca rispetto all'imputazione sostanziale dell'atto in altri termini in caso di dimissione il Capo dello Stato può nominare un nuovo Premier solo se il precedente non abbia proposto lo scioglimento alla luce di questi argomenti interpretativi si può dunque ritenere che nel caso di dimissioni il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica a fronte di una proposta in quel senso del Presidente dimissionario debba considerarsi un atto vincolato al pari di quanto accade nel caso di approvazione di un'emozione di sfiducia non si deve dimenticare che anche in quest'ultimo caso che è pacificamente inquadrabile tra gli atti vincolati vi è sempre formalmente una proposta del Presidente del Consiglio e un decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica del resto nel caso di dimissioni l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere sostanziale di scioglimento appare come accennato coerente con l'impostazione di fondo della riforma che circoscrive le funzioni del Presidente della Repubblica a quella di garanzia senza la possibilità di determinare l'indirizzo politico generale attraverso governi tecnici o governi comunque non determinati in una dinamica ovviamente maggioritaria e non consociativa direttamente dal voto espresso dagli elettori grazie grazie professore allora adesso possiamo passare alle domande senatore Cataldi magari un po' più sintetico di prima grazie sicuramente allora professor Marini lei ha accennato a queste funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica ha anche insomma chiarito a livello interpretativo il significato delle modifiche che sono state apportate implicitamente facendo riferimento all'approvazione dell'emendamento 4.2000 però io voglio dire proprio questo emendamento non finisce col compromettere questa questa funzione di garanzia in uno degli atti più importanti perché sostanzialmente stiamo dicendo che il nuovo Premier potrà dimettersi per qualsiasi motivo perché dal testo è stata spunta la parola di missioni volontarie e la semplice parola di missioni sta a significare stando al tenore letterale che il Premier si può dimettere anche per ragioni personali e ciò nonostante conserva il potere di chiedere e ottenere obbligatoriamente lo scioglimento delle Camere quindi le chiedo questa funzione di garanzia non c'è più e questa riduzione della funzione di garanzia non va ad incidere soprattutto se vista insieme alla riduzione del potere che avrebbe il Parlamento di sfiduciare liberamente un prego e non va a compromettere lo Stato di diritto grazie altri? Senatore Giorgis prego grazie ringrazio il professor Marini e gli sottopongo una domanda molto molto semplice perché ho sentito nella nella sua argomentazione per esempio un passaggio sui giudici della Corte Costituzionale che sarebbero sottratti dalla del rischio insomma sarebbero esclusi del rischio che la maggioranza di governo possa determinare ecco però allora le chiedo questo in un quadro nel quale per Costituzione la maggioranza parlamentare sarebbe una maggioranza direttamente espressiva del governo perché il meccanismo che non c'è più il 55% ma rimane comunque il principio come dire maggioritario un Parlamento che come hanno tutti gli osservatori messo in evidenza è un Parlamento legittimato di riflesso perché il premio dipende dall'elezione del Presidente del Consiglio e da questo punto di vista non si scappa non è un Parlamento che rappresenta il pluralismo è un Parlamento che rispecchia la volontà dei cittadini manifestata in ordine all'elezione del Presidente del Consiglio è la conseguenza è l'effetto ecco questo Parlamento che necessariamente è un Parlamento che comunque distorce il principio della rappresentatività e del pluralismo come può garantire senza la modifica dei quorum ma soltanto allungando il numero delle elezioni che il Presidente della Repubblica non sia invece nella disponibilità della maggioranza e in particolare di quella maggioranza eletta per trascinamento cioè le considerazioni che lei ha fatto sui giudici della Corte perché non valgono per il Presidente della Repubblica a suo giudizio davvero il Presidente della Repubblica sarebbe sottratto dal rischio di entrare nell'orbita della maggioranza parlamentare eletta come riflesso dell'elezione del Presidente del Consiglio dal solo allungarsi delle elezioni quel quorum lì è un quorum pensato in un contesto pluralista dove il Parlamento era espressivo invece come dire del pluralismo sociale e politico lui chiedo quindi insomma perché mi sembra di aver capito delle sue parole che lei pensi che sia abbastanza come dire garantita invece la sottrazione a me questo non convince ecco e poi su primo e secondo comma come lei stesso ammette gli dice ma forse sarebbe necessario un drafting ma forse sarebbe necessario un po' più di un drafting perché se il secondo comma potrebbe determinare un'interpretazione che nega il primo forse ci va una riscrittura perché dalle sue parole quando lei ha detto la seconda ipotesi in caso di dimissione il Presidente del Consiglio eletto potrebbe riguardare anche il primo se lei arriva come dire a prefigurare questa ipotesi forse sarebbe necessario appunto un po' più che il drafting però appunto questo è un aspetto diciamo secondario bene grazie allora Senatore Giorgi Senatore Marton prego sì rapidamente uno dei rilievi della Corte Costituzionale che è sempre presente relativo alla decretazione d'urgenza che ha sostanzialmente usurpato il Parlamento della prerogativa di poter legiferare è secondo lei superabile inserendo in questo disegno di legge integrandolo la fiducia a Camere Unite una volta sola sul provvedimento o comunque al governo cioè il fatto di dover dare attualmente a legislazione vigente la fiducia in entrambe le Camere se noi la riunissimo integrandolo in questo disegno di legge a Camere Unite non si supererebbe il problema della stabilità e il fatto della difficoltà di poter legiferare in tempi certi e anche sostanzialmente non avere problema tra una Camera e l'altra non so se è chiara la domanda ma se supera con la fiducia a Camere Unite uno dei problemi che la Corte Costituzionale sostanzialmente ci dice da diversi anni grazie senatore altri se non ci sono altri farei io una domanda al professor Marini se posso perché prima ascoltando il professor Cheli mi è parso di capire che il professor Cheli facendo riferimento all'articolo 139 avanzasse dei dubbi in ordine al fatto di questa riforma dire sì addirittura in grado di incidere sulla stessa forma repubblicana come è stata diciamo pensata e realizzata dai costituenti e ha parlato di un contrasto insanabile tra governabilità e sostenibilità democratica quindi volevo chiedere al professor Marini se anche lui intravede questo rischio questo pericolo e poi le volevo fare anche una domanda di ordine più generale anche questo come dire è una riflessione anche questa è una riflessione che trago dall'illustrazione che ha fatto il professor Cheli che ho comunque trovato molto interessante quando il professor Cheli dice ma insomma affiancare un presidente del consiglio eletto direttamente dai cittadini e quindi con una forma di legittimazione tra virgolette superiore a un presidente della repubblica che è eletto dal parlamento e quindi tra virgolette con una legittimazione di grado inferiore influisce anche direttamente sui poteri o rischia di influire direttamente anche sui poteri del presidente della repubblica stesso ecco io le chiedo ma i poteri di una figura costituzionale derivano dal metodo di elezione o derivano dalla costituzione e da ciò che la costituzione prevede espressamente per questa o quella figura costituzionale grazie niente provo a rispondere telegraficamente le domande sono molte la prima domanda la funzione di garanzia rispetto allo scioglimento e a mio avviso appunto lo scioglimento e la nomina del presidente del consiglio sono le due funzioni meno di garanzia volendo del presidente della repubblica ciò sono due funzioni più politiche del presidente e proprio su quelle si è agito certamente rispetto a quelle due funzioni c'è una limitazione dei poteri del presidente le funzioni di garanzia sono tante altre cioè il presidente comunque anche se verrà approvata questa riforma il presidente della repubblica sarà il presidente della repubblica con maggiori poteri nel mondo tra le forme di governo in cui non c'è l'elezione diretta del presidente della repubblica quindi comunque sarà un organo di garanzia in senso proprio a poteri rilevantissimi che riguardano tutte le principali istituzioni italiane riguardo alla alla domanda del senatore giorgis cioè il problema che vi è una legittimazione di riflesso del parlamento e che peraltro questa legittimazione di riflesso potrebbe portare alla maggioranza parlamentare ad eleggere il presidente della repubblica dalla sostanza è questa la domanda rispetto al primo rilievo non condivido del tutto nel senso che in verità vengono eletti contestualmente il presidente del consiglio e camere quindi anche il presidente del consiglio ha una legittimazione di riflesso cioè il presidente del consiglio verrà eletto in ragione anche della coalizione di governo e dei candidati della propria coalizione nel senso che quando l'elettore va a votare non è che vota solo il presidente del consiglio ma vota un presidente del consiglio che è il vertice che è il capo di una maggioranza di una coalizione che presenta dei candidati se quei candidati sono scarsi o se non funzionano probabilmente non verrà eletto presidente del consiglio ma questo no viceversa ma viceversa no no questo dipende dalla legge elettorale però questo dipende dalla legge elettorale però appunto non è un problema di riforma ma questo dipende scusate eh dipende come scriverete la legge elettorale però si può realizzare a livello di legge elettorale un sistema che rafforzi la legittimazione e il collegamento tra parlamentare e territorio ci stanno vari sistemi dall'unione nominale alle preferenze riguardo al fatto che la maggioranza parlamentare elegge il presidente della repubblica a parte che questo in parte accade già oggi ma poi non è in assoluto vero perché comunque l'organo che elegge il presidente della repubblica lo fa a scrutino segreto lo fa col parlamento dell'instituto comune con la componente regionale e per una durata che è superiore alla legislatura quindi anche non concitono le durate il che fa pensare che comunque non è una diretta espressione del presidente della repubblica della maggioranza parlamentare e riguardo all'osservazione della fiducia a camere riunite questo è un tema che è stato diciamo molto anche diciamo discusso in dottrina e riguarda il superamento in parte del bicameralismo è un tema sicuramente che meriterebbe un approfondimento però è un tema che riguarda proprio le dinamiche di funzionamento delle camere la proposta va invece a concentrarsi sul problema della stabilità di governo e forse l'attribuzione alla fiducia a camere riunite non risolverebbe il problema e riguardo alla forma repubblicana qui non condivido invece l'osservazione del Presidente Kelly perché appunto la forma repubblicana per quella che è nella nostra Costituzione nel 138 nel 139 e nell'articolo 1 riguarda solo l'elezione del Presidente della Repubblica cioè era il superamento della forma monarchica ed è un effetto del referendum istituzionale del 46 quindi qui non è in discussione certo il problema della forma repubblicana il tema del rapporto tra un Presidente del Consiglio eletto direttamente e un Presidente della Repubblica che invece ha un'elezione di secondo grado e corrisponde al fatto che hanno funzioni diverse e anche oggi i giudici costituzionali hanno un'elezione di secondo grado a scrutino segreto eppure svolgono e svolgeranno anche in futuro le funzioni di garanzia cioè il fatto che ci siano due elezioni diverse corrisponde alla diversità di funzioni e quindi mi sembra anzi abbastanza fisiologico del resto appunto grandissimi giuristi a partire da Mortati sostenevano che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio avrebbe rafforzato il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica quindi non è che siano proprio affermazioni particolarmente innovative bene grazie allora direi che anche in questo caso abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati ci rivediamo alle 14.30 per proseguire le audizioni col Professor Belletti la Professoressa Calvano il Professor Desiervo il Professor Giuffre chiaramente se il Professor Cheli e il Professor Marini hanno piacere di assistere sono benvenuti buona giornata grazie